Il verdetto del Consiglio Superiore della Magistratura sulla riconferma capo della Procura della Repubblica di Arezzo di Roberto Rossi arriverà mercoledì quando a Palazzo dei Marescialli si riunirà il plenum, un passaggio che rientra nella prassi. Dopo i primi quattro anni il magistrato deve infatti passare attraverso una conferma che, se accordata, riguarda lo stesso periodo di tempo. Ma nel caso di Rossi ciò si incrocia con la maxinchiesta su Banca Etruria e la consulenza al Dipartimento Affari Giuridici e Legali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolta proprio dal magistrato. Una vicenda che era emersa nel 2016 e che era stato oggetto di un accurato approfondimento da parte dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura che in quella circostanza, per tre volte, aveva ascoltato il procuratore Aretino. Sotto la lente di ingrandimento erano finiti i contatti tra la procura e Pierluigi Boschi in relazione a vicende giudiziarie e pregresse, nonché appunto il suo incarico svolto come consulente ministeriale dal 2013 al 2015 nel corso dei governi Letta e Renzi, aspetti che erano stati esaminati anche in virtù delle numerose testimonianze rese durante le audizioni al CSM. Sembrava tutto dunque risolto ed archiviato, ma proprio in questi giorni la vicenda è stata oggetto di attenzione nel processo per la riconferma di Roberto Rossi. Nel luglio scorso la Commissione, incaricata a larga maggioranza, aveva proposto al Plenum di non confermare Rossi ad Arezzo, parere negativo che era arrivato anche da parte del Ministro Alfonso Bonafede. Nonostante un anno fa gli ispettori del Ministero della Giustizia avessero sottolineato al termine del loro accertamento l'ottima direzione e organizzazione degli uffici da parte del dottor Rossi. Mercoledì, dunque al Plenum, il confronto si terrà sui pareri favorevoli e non, fino allora, resta l'interrogativo sul futuro di Rossi. Mercoledì, dunque al Plenum.